Un fucile da caccia calibro 12, risultato rubato con denuncia presentata al commissariato di Lentini, una pistola calibro 7,65 marca Bernardelli, completa di caricatore con 6 cartucce, risultata anch'essa rubata con denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Caltagirone. 480 cartucce di vario calibro, illegalmente detenute, circa 270 grammi di marijuana e una pistola a tamburo. Riproduzione della Bruni calibro 38, priva di tapporosso. Queste le armi e la droga rinvenute nell'abitazione a San Michele di Gansaria, di un 32enne incensurato, arrestato dai poliziotti del commissariato di Niscemi, in collaborazione con i carabinieri del comune del Catanese, dopo una perquisizione domiciliare. L'uomo colto dunque nella flagranza di reato di ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato collocato agli arresti domiciliari.